che volete fare facciamo normale il classico quali hai messo di tipo è normale basta che me lo dici va bene va bene ci partiamo con una normal si è una bella non si fa un fenomeno questo tentativo di disegno ma che ma che ma che cos'è questo coso ma che che cazzo sto vedendo ma che devo fare devo disegnare sopra gli altri ma puoi disegnare sopra oh bellissimo ma non hai messo quella lì dei frame allora hai messo ma c'è scritto normale ma c'è quella normale raga c'è scritto normale e si poteva disegnare sopra questa è quella del frame no secondo me ve lo fa vedere ma in realtà non cambia un cazzo anche se lo vedete no ma c'è lo puoi togliere in basso a destra lo puoi togliere sopra la faccia di destra migliorato era quello sai che c'è da faccia da faccia ma che cazzo so ste torri goku bello bello questo mi piace aspetta lo miglioro bambino tentacolante di peggio bastardo canaglia album di deluxe ma allora vola fuori dalla pista non è mai arrivato è una piga è una piga ma mollura ladro e figurata naso di cazzo oddio giammo giammo devi farti assumere devi farti assumere dal vernacoliere tu devi farti assumere ma allora ma ci avevi dodici minuti c'hai fatto quel cazzo di giammo maialino maialino on ipom ecco la mia creazione vabbè vabbè alla fine è blu ci sta ma scusate ma il pallino in basso a destra e in basso a sinistra dell'approvazione vuol dire che è giusto cioè lo riconosce qua non ha riconosciuto l'unicorno artistico però andiamo avanti vediamo questo non è arrivato a votare con una persona davanti a rimuvi la magia sembrava la borsa per quello comunque 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 giammo giammo chiedere all'orologio e nel mio l'ha già rubato non è mai arrivata questa roba è arrivato un gatto sinto pulito un pazzo sembra un cane porco mi è diventato un cane eccolo qui torino è bella mole antonelliana ragazzi io ho scritto baron nascio io ho trollato non ci ho messo niente per far capire era torino città in fiamme con un campo di calcio città in fiamme è rimasta città in fiamme è rimasta no ragazzi cos'è uscito fuori dopo è arrivata è una persona guarda cosa esce ora ah lui è proprio lui ma com'è scarafaggio ma questo è un gattino è troppo cute per essere uno scarafaggio un gattino con al posto delle zanfi delle cappelle porco dio vabbè le cappelle sono rimaste ma il maestro man drago maestro ecco da dove è arrivato porco dio grazie che mi è arrivato a me maestro eh vabbè ragazzi mi è arrivata una cosa brutta è morto qualcuno famiglia su un prato con dietro un albero come ha fatto a peggiorare così tanto ma il bambino uccide la mamma famiglia sull'albino colpita da frutta ma scusa ma gliele lancia l'albero la freccia colpita da freccia guarda che escalation guarda che escalation ma perché è uscita fuori yugio no ma non è possibile no ragazzi ma non puoi questa è grande carta del maestro ma come è successo questa cosa ma come magic e no no ritorna yugio tranquillo ti preoccupando ah ritorna ritorna ok marzo il re maio che cazzo canta yugio del marzone yugio yugio vabbè però è rimasta è rimasta è rimasta di giugio si iscrive subito a konami iugio Grazie a tutti.